Non ho mai visto tanti pioppi in vita mia Sembra... cioè sta nevicando praticamente Guardate qui che roba Cioè c'è un accumulo... Sono 20 centimetri di pioppi Eccoli i responsabili Guardatele lì Sono la stazione di servizio Rozzano Est Cioè sembra Galaverna Non è un episodio meteorologico però... Sti alberi sono strappini di pioppi Io non ne ho mai visti così tanti Mai visti così tanti Sì... 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 Sì...